Trump, dato perdente dai sondaggi manipolati è il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Ecco quali sono gli scenari possibili, le conseguenze su più fronti saranno molto profonde. Nel corso della sua campagna elettorale, ha più volte sottolineato la sua abilità nel mondo degli affari e raccontato di come renderò l'America di nuovo grande. Le conseguenze maggiori nel medio termine, senza dubbio, riguardano Wall Street, il dollaro e il prezzo dell'oro, tradizionalmente riconosciuto come bene rifugio. Dallo shock per un evento così rischioso come avere Trump nel ruolo di presidente degli Stati Uniti, la borsa di Wall Street crolla trascinando con sé il destino delle altre borse mondiali. Il crollo però si è assottigliato, i mercati stanno già metabolizzando l'inizio di un mondo con Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d'America. L'indebolimento del dollaro, a cascata, ha un forte effetto sull'euro, che diventa relativamente più costoso rispetto al biglietto verde. Questo va ad influire, con un effetto domino, sulla competitività del commercio europeo. Il prezzo dell'oro è invece schizzato alle stelle, il metallo prezioso rappresenta un investimento sicuro e gli investitori di tutto il mondo corrono a comprare lingotti d'oro per mettere al sicuro il proprio capitale contro il crollo di tutti i mercati finanziari mondiali. Quanto durerà il crollo dei mercati? Esistono essenzialmente due fattori con Trump presidente che potrebbero attenuare il crollo dei mercati e riportare la tendenza al rialzo. Trump è un imprenditore e conosce bene sia come investire che come far crescere le aziende e le sue abilità potrebbero effettivamente favorire una crescita del settore industriale americano. Trump ha già espresso la volontà di imporre delle tasse molto salate sui prodotti provenienti da entrambi i paesi per sfavorirne il commercio, il che potrebbe scatenare una guerra commerciale non proprio di poco peso sull'intera economia globale. Aumenterà la spesa dedicata alla difesa, il che nella storia ha sempre portato ad una crescita del PIL statunitense. Dovrà trovare il modo di regolarizzare gli immigrati. Quello che invece potrebbe portare avanti è l'espulsione degli immigrati con precedenti penali. Secondo i dati ci sarebbero meno di 168.000 persone in questa situazione, ma Trump riferisce che siano invece 2 milioni. Economia In campagna elettorale Donald Trump aveva promesso una significativa crescita del PIL, la creazione di un enorme numero di posti di lavoro e un aumento dei salari al netto delle imposte per i lavoratori e agevolazioni fiscali e riduzioni per la classe media americana, la diminuzione del debito e del deficit, l'aumento dei posti di lavoro e la crescita economica il caso di Apple, Trump ha già dichiarato di voler spingere l'azienda di Cumpartino a riportare negli Stati Uniti la produzione spostata in Cina. Un altro punto fermo del programma di Trump è quello del disimpegno internazionale, mandare truppe all'estero solo se assolutamente necessario, invertendo completamente la rotta rispetto al passato. Uno degli obiettivi forse più citati in campagna elettorale è quello di sconfiggere l'ISIS definitivamente e anche quello di contenere i programmi nucleari dell'Iran. Per quanto riguarda il commercio, Trump potrebbe voler inaugurare una nuova era di protezionismo, allontanandosi dalla classica impostazione liberista. Con ogni probabilità vorrà rinegoziare i trattati di libero scambio con Canada e Messico e tirarsi fuori dal TPP, il trattato trans-pacifico. Ambiente, che il cambiamento climatico sia considerato da Trump una menzogna non è un mistero. L'ha più volte ribadito, aggiungendo che la spesa miliardaria degli Stati Uniti per i programmi climatici delle Nazioni Unite sarà notevolmente tagliata se non azzerata. Nei progetti di Trump vi è inoltre l'implementazione della produzione di gas naturale e petrolio prodotto sul territorio statunitense. I rapporti con la Russia, Trump non ha fatto mistero dell'intenzione di voler ricucire le relazioni con la Russia, e in maniera minore anche con la Cina. Tutto questo è collegato anche con il conflitto in Siria. Come Mosca, anche Trump crede che Bashar al-Assad sarà il male minore. Potrebbe quindi con ogni probabilità invertire l'alleanza con i gruppi dei ribelli portata avanti finora da Washington.